Cale in Italia la produzione dello zucchero e tra le cause della discesa c'è anche la quota di mezzata portata quest'anno dallo zuccherificio del Molise di Termoli. Il bilancio della campagna abieticolo saccarifera nazionale, anche se non ancora definitivo, è stato anticipato dal sole 24 ore. Le stime parlano di una perdita di circa il 25% sulla quota dello scorso anno, causata anche dalla siccità di primavera ed estate. A Termoli si è lavorato poco più di un mese, dall'11 luglio al 16 agosto, con le bietole raccolte nei 6.000 ettari, seminati tra Puglia, Molise, Abruzzo e Marche, ma il prodotto lavorato è stato inferiore della metà rispetto agli anni passati. Dai dati forniti dalle associazioni di bieticoltori, le rese sono state inferiori alle aspettative, intorno alle 6 tonnellate per ettaro di saccarosio, con una produzione di 360.000 quintali, ma con una qualità elevata. Archiviata nello zuccherificio del Molise la campagna 2012, si pensa già alle semine autunnali per il 2013, che garantirebbero il plenum della quota zucca rassegnata allo stabilimento termolese. Ma già a partire da domani inizia un periodo decisivo per il futuro dell'azienda. A Roma, nella sede della regione, è fissato un incontro fra il manager Umberto Alfieri e le parti sociali. Circa la sorta è dei 27 lavoratori in esubero, quelli che non sono entrati nel Nagnuco, che hanno costituito un comitato appoggiato anche da forze politiche d'opposizione, come il Partito della Rifondazione Comunista. Ad ottobre, poi il 10, c'è il concordato preventivo per la gestione dell'azienda da parte della regione Molise. L'attuale management dell'impresa esprime ottimismo. Secondo indiscrezioni, le manifestazioni di interesse in arrivo sono diverse.